ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video allora benevento torino due a due prima di nicola sulla panchina del toro cosa possiamo dire beh è stata una partita che possiamo definire dai due volti perché nel primo tempo si è rivisto il toro timoroso che avevamo sempre visto con giampaolo non c'era tanta voglia non sembrava esserci tanta iniziativa però devo dire la verità anche il benevento non mi ha dato non mi ha fatto chissà che impressione siamo andati sotto su un episodio che secondo me ha del clamoroso nel senso che quello lì non è mai rigore non può essere rigore innanzitutto perché non c'è un danno procurato una volta che l'attaccante ha già tirato la palla credo e dico credo che fosse uscita già quindi non era più in gioco e quindi non capisco quello non è mai rigore non può essere rigore proprio ai fini del regolamento e non riesco a capire come possa aver fatto giacomelli a dare con questa sicumera il rigore senza andare neanche a rivederlo al var dato che adesso a distanza di 12 ore quando vado a rivedere l'intervento non riesco ancora a dare un giudizio definitivo quindi come ha fatto lui a capirlo così senza avere dubbi io sarei andato come minimo a rivedere se la palla fosse uscita o meno perché se la palla fosse uscita quello non può essere rigore aveva già tirato sirigu sicuramente goffo nell'uscita ha sbagliato quello sicuro non mi è sembrato in grandissima serata ecco quello è vero però devo dirvi la verità siamo andati sotto insomma in questa occasione che è stato praticamente l'unico tiro in porta del benevento del primo tempo perché se si esclude il gol di Glick che ha annullato e anche lì giacomelli secondo me è colpevolissimo perché è andato a vederlo al var e l'ha annullato per un tocco di mano di Glick quando invece c'era probabilmente il fuorigioco dello stesso polacco e inoltre c'era una carica clamorosa suizio cioè avrebbe dovuto fischiarlo per molti altri motivi non sicuramente per il tocco di mano escludo escludiamo diciamo di commentare la l'esultanza da vittoria di champions league da parte di Glick che non me l'aspettavo e da questo momento Glick per me è morto sarà che sono un rancoroso un permaloso ditemi quello che volete ma secondo me uno che esulta così tanto per un gol fatto all'ex squadra da cui il giurato amore eterno ma vabbè voi poi nei commenti mi direte sicuramente che è un professionista deve fare così non come quagliarella sì 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 tutto giustissimo però il modo l'atteggiamento che ho avuto durante tutta la partita il fallo sicuramente da rosso che ha fatto su belotti da ultimo uomo che non è stato neanche sanzionato tutto il resto me lo ha fatto diciamo scendere di molte molte gerarchie nella classifica diciamo dei giocatori che ho apprezzato al toro chiusa parentesi andiamo avanti il benevento ha picchiato tutta la partita sono stati dei fabbri e giacomelli non ha tirato fuori un cartellino giallo che fosse uno se non appunto al 95esimo anche questa è da considerare come cosa nel secondo tempo se si escludono i primi cinque minuti dove siamo andati sotto abbiamo subito pure il gol del 2 a 0 abbiamo visto un toro che non vedevamo da parecchio tempo secondo me un toro che ci ha messo voglia ci ha messo grinta ci ha messo garra vedevo che la squadra era sul pezzo devo dire la verità mi sono piaciuti quasi tutti se escludiamo le mezzali perché gli netti e lukic veramente impalpabili che ci fossero non ci fossero non si è minimamente notato non si sarebbe minimamente notata la differenza mi sono piaciuti molto zazza che va bene hanno detto tutti ha fatto secondo me la miglior partita da quando al toro è entrato in tutte le azioni anche nel primo tempo ha avuto un'occasione che montipo ha respinto bene e nel secondo tempo è entrato nel vivo di tutte le occasioni che ci sono state quindi non si può che non si può dire che non abbia fatto una grande partita mi è piaciuto molto in occasione del gol dell'1 a 2 ha sfruttato bene un cross dalla destra di singo poi ha fatto il 2 a 2 annullato per un tocco di mano giustamente di belotti e poi ha siglato questo 2 a 2 finale che comunque ci ha fatto prendere un punticino che devo dire la verità avrei preferito i tre punti ovvio però per come si stava mettendo prendiamoci sto punto ovvio che con due punti in più girare a 16 punti sarebbe stato diverso sarebbe stato anche diverso per accacciare giampaolo prima perché chiunque dica che il cambiamento non ha fatto bene penso che non abbia visto la partita e penso che con giampaolo due gol due gol sotto come quelli di ieri sera non li avremmo mai recuperati con quella tenacia con quella voglia con quella grinta quindi secondo me fossimo avessimo preso nicola prima della partita di sabato scorso contro lo spezia avremmo sicuramente due punti in più perché con lo spezia avremmo vinto di questo sono certo al cento per cento purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù e adesso comunque si fa tosta perché quella che dovrà fare nicola sarà comunque un'impresa non lo nego dato che 14 punti in un girone sono veramente pochi per potersi salvare a fine campionato speriamo di poterlo fare non so se sarà sufficiente questo atteggiamento per poter fare i punti che ci serviranno di sicuro se andassimo in b ci andremo almeno con un ci andremo da toro nel senso provandoci fino alla fine questa è l'unica cosa che in questo momento possiamo sperare abbiamo buttato un girone cairo ha buttato volutamente un girone in palese malafede tenendo un inetto secondo me sulla propria panchina e questo questi sono i risultati questa squadra vale molto di più di 14 punti che dice la classifica vedremo se saremo in grado di fare i punti che ci servono questo è tutto ragazzi io la partita l'ho vista così mi sono piaciuti nel secondo tempo nel primo no come ho detto non mi è piaciuto assolutamente il modo il metodo di giudizio di giacomelli perché ha lasciato impuremente picchiare tutta la partita belotti e altri da parte di quegli urlatori attori urlatori di caprari la padula che sembrava veramente indemoniato ieri però è andata così abbiamo visto molto di peggio quindi per adesso è un buon un buon viatico speriamo che possa continuare nicola su questa falsa riga dai ragazzi ci sentiamo per il prossimo video venerdì prossimo di torino fiorentina lì dobbiamo vincere per forza ormai come si è detto più volte i bonus sono finiti quindi bisogna sempre vincere cioè bisogna cercare di andare sempre a fare i tre punti ovunque e non so se una squadra che ha fatto solo due vittorie in tutto un girone sia in grado di fare così tante vittorie per salvarsi questa è la bavura che abbiamo vabbè ragazzi dai ci sentiamo al prossimo video grazie a tutti ciao